5 anni con Riva Banca, 10 anni di BCC in Canavese e 25 anni di Banca d'Alba, sono veramente traguardi di tutto rispetto e che può rendere soltanto orgogliosi. Sì, da questo punto di vista sì, ma credo che ci renda anche molto responsabili perché dobbiamo rispondere a una comunità di 62 mila persone, peraltro più di 4 mila in questo territorio che non dobbiamo deludere, che sono un po' lo scopo per cui noi abbiamo questa attività e credo che da questo punto di vista siamo molto orgogliosi, molto contenti dei risultati raggiunti, ma anche molto responsabili e preoccupati no, sereni perché i numeri ci dicono che il futuro potrà essere positivo sicuramente anche per noi, ma comunque molto molto responsabili questo sì. Difatti è una banca per la comunità che comunque nonostante questi anni difficili, dovuti anche la pandemia è cresciuta. Sì, siamo cresciuti, noi abbiamo mantenuto un modello di servizio che ricalca un po' quello che è sempre stato il modello di banca, abbiamo però inserito tutte le tecnologie che è stato possibile inserire, per cui riusciamo a coniugare questo fatto della digitalizzazione al fatto dell'umanizzazione, per cui il contatto con il cliente, la persona al socio per noi comunque è fondamentale e importante e da questo punto di vista i numeri ci hanno aiutati a poter continuare a mantenere questi servizi. E un'altra cosa importante da rimarcare è il fatto che non sono state chiuse filiarie, anzi. Assolutamente, da questo punto di vista, noi dobbiamo anche partire dal concetto che non potremo mai avere dei risultati, anche se quest'anno la Banca d'Alba si è difesa abbastanza bene, credo, dei risultati straordinari perché è una parte dei nostri utili che non va dividendo, perché noi non facciamo dividendo, va reinvestito anche in servizi e in servizi vuol dire vivere ed essere presente nelle nostre comunità. Una banca per il territorio e che lo dimostra anche con il rinnovamento che state eseguendo a Vische e quindi con l'esportazione qua in Canavese di un modello che è già albesa, sigiano e torinese, quello del caso della salute. Sì, insomma questo sarà un esperimento ma pensiamo positivo, abbiamo avuto la fortuna di incontrare questi due medici giovani che hanno dato la loro disponibilità per cui adesso con la ristrutturazione ci saranno gli ambulatori e più noi legheremo agli ambulatori questi centri medici riabilitativi che potranno essere al servizio dei soci del nostro territorio e magari anche dei familiari, perché no? Tanta attesa anche per l'Assemblea che è una festa per celebrare questi traguardi. Sì, quest'anno sarà particolare anche perché si ritorna un po' alla normalità, faremo anche il nostro pranzo della domenica con i nostri soci dopo aver provato un bilancio veramente importante e soprattutto essersi anche confrontati con loro per quello che sono i bisogni e le necessità perché il diritto di parola credo che sia assolutamente importante e per noi è anche significativo perché può darci indicazioni precise di come continuare e proseguire la nostra attività. Grazie. Grazie. Grazie.